Aspettiamo che ci sia più gente possibile. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Non c'è nessuno? C'è qualcuno? No, perché volevo dire che bisogna avere il coraggio di fare i mansion anche quando si ha delle cesse distrutte. In questo caso c'è il numero uno, c'è il numero due, c'è il numero tre. Io sono la numero uno. Ciao. Sono la c'è il numero uno. Niente ragazzi, io volevo ringraziare Milano, Roma, Napoli e Bari per questi incontri pazzeschi. Siete stati tutti molto carini, molto gentili. Io sono ridotta a uno straccio, sto per prendere l'aereo, infatti mi cago in mano. Però ho trovato delle gocce magiche che si chiamano fiori di Bach. Dicono fiori di Bach. Dicono che sei di Bach. Infatti sto un attimo un po' così, non si sa bene. Niente, sto... sto... che sto facendo? Sto prendendo un volo per Milano. Domani mattina sarò in diretta a Radio DJ. Poi da Radio DJ a Milano farò un po' di radio e poi andrò a Brescia, da Siria. Padova prima. Prima vado a Padova, scusate, Milano vado a Padova a fare Radio Company, poi da Padova vado a Brescia per prendere parte a questo evento dei vent'anni di Siria. Poi, ragazzi, mi troverete in qualche discarica in un angolo morto perché è tutto molto bello, tutto molto piacevole, però non ce la faccio più perché sono una cessa in mezza distrutta. Allora, c'è anche i denti molto bianchi, direi. Sì. Prato anche a fare l'occhiolino, scusate. Prato anche a perdere il mio occhiolino, fate l'occhiolino. Ciao ragazzi, sto salendo in aria, devo spegnere, devo spegnere, devo spegnere. Ciao, ciao, ciao a tutti. Voglio bene, grazie di tutto, grazie per questi giorni in vostra compagnia. Siete stati tantissimi e questo mi fa molto piacere. Devo chiudere perché devo salire in aria. Ciao.